Signori, buonasera a tutti. Ci troviamo ormai alle porte di Purim e, come è nostra abitudine, una o due lezioni prima di una festa la dedichiamo al tema della festa. Quindi oggi faremo una breve vacanza dal Sefer Agnurah e ci soffermeremo invece su Purim. Si crede spesso di conoscere tutto di questa grande festività, ma ci sono sempre delle interpretazioni un po' particolari che vale la pena di studiare. C'è sempre qualcosa da imparare. Questa è la bellezza delle nostre feste. Ogni anno ritornano, ma ogni anno si propongono come qualche cosa di nuovo. Quello che volevo trattare con voi questa sera è l'interpretazione di Purim secondo i testi della Kabbalah, secondo i testi della mistica etnica. Da dove partiamo per questo lungo viaggio? Partiamo dalla creazione del mondo e in particolare dalla creazione dell'uomo e della donna. Non è una battuta. Di solito si scherza quando si dice che si vuole cominciare da molto lontano. Partiamo dalla creazione del mondo. Questa volta è proprio così. Se andiamo a vedere nel secondo capitolo di Bereshit, dove si parla della creazione dell'uomo e della donna, leggiamo testualmente. Hashem iddio comandò all'uomo dicendo potrai mangiare da tutti gli alberi del giardino, ma dall'albero della conoscenza del bene e del male non potrai mangiare perché il giorno in cui ne mangiassi morirai. Conosciamo la storia. A questo punto Hashem iddio disse non è bene che l'uomo sia solo, e qui è usata la parola levado che ha il significato di solitudine anche in ebraico moderno, gli farò un aiuto che gli si confaccia. Letteralmente un aiuto di fronte a lui. In ebraico che negdo. Che negdo contiene la parola neged che normalmente viene tradotta come contro. In realtà che neged non ha un valore diciamo così avversativo, significa viene interpretato come di fronte a lui. Hashem iddio fece cadere un sonno sull'uomo che dormì, poi prese una delle sue costole, Akhat Mitzal Otav, e richiuse della carne al suo posto. Infine Hashem iddio costruì la costola, vajiven letteralmente significa costruì, la costola che aveva preso dall'uomo facendone una donna e la recò all'uomo. L'argomento è di nuovo riassunto un po' più avanti, all'inizio del capitolo 5 di Bereshit, dove in due parole si ritorna sull'argomento e si dice a proposito della creazione dell'uomo, Zachar unkeva veraam, maschio e femmina li creò, vaikah e cemam adam veom ibaream, e chiamò il loro nome adam. La mia domanda è, avvertite una contraddizione fra questi due capitoli? Ne abbiamo già parlato ad altro proposito. La prima fonte, quella più diffusa, sembrerebbe postulare che l'uomo e la donna siano stati creati in tempi diversi, mentre quest'ultimo versetto sembrerebbe volerci dire che la loro creazione invece è stata simultanea. Come risolvere questa contraddizione, chiamiamola così? Ci pensa il Midrash, Bereshit Rabbah, all'inizio della parasha ottava, con una fonte che riprende in realtà anche due citazioni talmudiche, e lo stesso argomento è trattato anche nel Talmud, in due passi diversi, uno nel trattato Berakhot e l'altro in Eruvim, a nome di Rabbi Irmiya Benel Hazar, il quale diceva «Allorché il Santo Benedetto creò il primo uomo, lo creò androgino». Come è scritto nella seconda fonte della Torah che abbiamo studiato, maschio e femmina li creò e chiamò il loro nome Adam. Questo testo della Torah orale avvalora quindi l'idea che l'uomo e la donna siano stati creati contemporaneamente nella stessa figura, nello stesso corpo androgino. In che modo? Approfondisce questo insegnamento un altro maestro, Rabbi Shemuel Bar Nachman, il quale dice, è ancora più preciso, «Allorché il Santo Benedetto creò il primo uomo, lo creò bifonte e poi lo segò in due, ne sarò in ebraico». Ma sorro significa sega, anche in ebraico moderno. Lo segò in due, facendone due terga da una parte e dall'altra. Insomma, secondo questa fonte, l'uomo è stato creato androgino e bifonte. Da una parte aveva le sembianze di un uomo questo corpo e dall'altra, alle sue spalle, aveva le sembianze di una donna. Ci sono alcune sculture provenienti dall'antica Recia che riproducono questo tipo di figura, che non era ignoto alla mitologia degli antichi. Dopodiché, come nasce la separazione fra uomo e donna, Dio decise di segare in due questa figura bifonte, facendone, dicevo, due terga che si sono separate, l'uomo e la donna. Gli fu obietato al maestro, a Rabbi Shemuel Bar Nachman, ma non è scritto che prese una delle sue costole come la mettiamo col primo racconto. Come conciliare col primo racconto, Rabbi Shemuel Bar Nachman dice che la parola zela, che lì è usata nel senso di costola, e così siamo tutti quanti abituati a tradurla, significa in realtà lato oppure spalla. da dove lo evinciamo? Dalla parasha della scorsa settimana, la parasha di Terumah, dove si parla della costruzione del tabernacolo e ad un certo punto si nomina il selah mishkan, il lato del tabernacolo. e lì chiaramente la parola non può essere tradotta con costola, perché non si tratta di un essere animato, ma si tratta del tabernacolo, di una costruzione. E quindi in questo modo noi conciliamo i due racconti della creazione dell'uomo e della donna secondo il libro di Bereshit. Questo è l'insegnamento della Torah orale. Lo Zohar, e qui entriamo nel vivo del nostro discorso, lo Zohar approfondisce questa immagine e dice che Hashem li divise in due separando la femmina dal maschio, ma non si limitò a dividerli per le terga. Poi li ricondusse insieme, ma in modo diverso, in modo che fossero questa volta faccia a faccia. E quando la femmina fu riunita al maschio, dice lo Zohar, allora Hashem li benedisse come si fa durante il matrimonio, durante la celebrazione nuziale. Che cosa aggiunge lo Zohar ai Pesukim della Torah e al Nidrash? Lo Zohar aggiunge che non solo l'uomo fu creato bifonte, che non solo Kadosh Baruch Hu a un certo punto segò queste due figure in maniera che fossero indipendenti l'una dall'altra, ma ne provocò la ricongiunzione, questa volta non per le spalle, ma faccia a faccia. E il riferimento naturalmente è al legame nuziale fra uomo e donna. La tradizione kabbalistica, a partire dal Ariya Kadosh Rabi Yitzhak Luria, ai grandi kabbalisti di Tzfat del XVI secolo, afferma dunque che originariamente uomo e donna erano uniti per le spalle, per le terga, come si dice in buono italiano, in ebraico achor be achor, letteralmente retro con retro. Considerato questo fatto, il santo Benedetto disse, non è bene che l'uomo stia da solo, levadò. Cosa vuol dire etimologicamente levadò? Levadò va connesso con la parola leved che in ebraico significa ramo. Il ramo che idea evoca? Il ramo evoca l'idea di qualcosa che è attaccato a qualcos'altro, ma nello stesso tempo se ne sta per conto suo. È qualcosa di attaccato che tuttavia si stacca. Non è bene che l'uomo sia come un ramo, attaccato alla donna e viceversa, ma in realtà così staccati l'uno dall'altro che non possono guardarsi in faccia. Gli farò un aiuto, e se lo eser, che ne gdo, vi ricordate cosa abbiamo detto di che ne gdo, di fronte a lui. Avrebbe così dovuto stabilirsi fra loro una nuova unione frontale, non più per le spalle, ma di faccia. Non più achor be achor, retro su retro, ma panim be fanim, viso su viso, vis-à-vis, come si dice in francese. E Rav Kuk, che dei cabalisti è l'esponente più interessante dell'ultimo secolo, spiega che panim, che letteralmente significa volto offronte ed è usato in questa espressione, è connesso con penim o penimiut, che letteralmente si traduce interiorità. Il volto di una persona, infatti, riflette la sua interiorità, ovvero esprime la sua volontà. Quando avete una discussione qualche volta accesa con un'altra persona, su argomenti scomodi, come ci si comporta di solito nella vita quotidiana, non ci si guarda in faccia. E ad un certo punto uno dei due litiganti richiama l'altro e gli dice per favore guardami in faccia, perché la faccia conferma la volontà e diciamo in un senso più profondo l'interiorità della persona. Per contro le terga, in ebraico ahor, il retro, simboleggiano l'inverso, la costrizione e la forza di natura. Un legame di spalle è un legame che prescinde dalla volontà delle persone. Un legame di fronte in cui le persone si guardano in faccia invece manifesta la loro volontà, è conforme alla loro volontà. La congiunzione posteriore viene dunque a stabilire una relazione sulla base di forze animali, non guidate dalla volontà dell'uomo. La scelta, invece, peraltro, rappresenta a sua volta un'evoluzione del principio naturale. Senza che si sia partiti dalla forza fisica istintuale, neppure la scelta che viene dopo sarebbe potuta esistere. Adam e Havà non avevano scelto di essere congiunti per le terga e il Santo Benedetto stabilì che la vita di coppia non poteva essere fondata sulla costruzione, su un legame fra due spalle, fra due persone che si voltano le spalle, ma solo sulla libera scelta delle parti che si guardano in faccia. Per questo, dicono le fonti della Kabbalah, li separò e fornì loro la possibilità di ricongiungersi frontalmente panimbefanim, come abbiamo detto, in modo da esprimere così la propria volontà reciproca. Per coppia di questo processo si rese necessaria una Nesirah. Il termine è astratto, Nesirah letteralmente significa resezione della femmina dal maschio e il linguaggio della Kabbalah riprende quello del Midrash. Vi ricordate? Nessarò. Ad un certo punto Dio segò l'uomo separandolo dalla donna. La Nesirah, dice Rabkhal, il grande Kabbalista italiano del Settecento, Rabbi Moshe Chaim Muzzatto, la Nesirah crea la scelta, la costruisce. Vi ricordate che verbo ha usato la Torah a proposito della creazione della donna in uno dei suoi racconti, Va'iven, la famosa costola o il lato a seconda di come vogliamo tradurre quella parola, a un certo punto è stata costruita in una donna. La costruisce e le fornisce un'illuminazione, una he ara in ebraico. Attenzione, il movimento è compiuto dalla femmina, mentre il maschio cosa fa? Resta al suo posto e dorme. L'abbiamo visto dal racconto della Torah che l'intervento di creazione della donna è stato di fatto la prima anestesia della storia. L'uomo nel frattempo dorme. È chiaro che qui si tratta di vedere le cose solo da un punto di vista fisiologico o medico. È chiaro che questa dormita ha un significato molto più profondo sul piano spirituale sul quale torneremo. Vi è a questo punto da notare un gioco di parole fra boné che significa costruisce presente appunto in Va'iven e un'altra parola ancora, Binah, che identifica una parte dell'intelligenza ed è quella componente dell'intelligenza che compie proprio la presezione, la Nesirah, di cui i maestri affermano una Binah superiore che il Santo Benedetto ha dato alle donne che sono le protagoniste di questo momento, chiamiamolo così. Se vogliamo analizzare queste fonti da un punto di vista della modernità, modernizzarle in un certo senso, possiamo dire forse che questo discorso anticipa di molti secoli la psicanalisi. possiamo identificare con questo tipo di discorso la descrizione del percorso di maturazione dell'individuo. È quello che fa un autore contemporaneo, Rabin Chaim Cohen il talele Chaim, al quale mi ispiro nell'elaborare questo discorso. È una bellissima lezione. È la descrizione del percorso di maturazione dell'individuo. Nella prima infanzia cosa succede? Egli dipende totalmente dalle scelte dei suoi genitori che per il suo bene gli danno ordini senza spiegargli nella logica, semplicemente perché non sarebbe in grado di comprenderla. E questa corrisponde a livello individuale, a livello di ciascuno degli individui, alla fase di costrizione di cui abbiamo parlato, la fase achorbe achor, retro su retro. Subentra poi la fase dell'adolescenza che corrisponde alla nesira, alla resezione. Allora che il giovane si stacca dalle scelte che gli avevano imposto i suoi genitori e cerca di affermare la propria indipendenza di giudizio. È la fase della stupidera, come una volta si chiamava. Il ragazzo o la ragazza si rifiutano di obbedire, ma non essendo ancora in possesso delle proprie scelte, compiono sovente degli errori per il puro gusto di contraddire i genitori. Ed è certamente questo il momento più critico, perché i genitori qui non possono più assumere un atteggiamento di imposizione nei confronti dei figli, ma devono pur sempre vigilare che queste ribellioni non vengano a costituire per loro una nuova abitudine, cosa che li potrebbe naturalmente portare su una cattiva strada. Ma nel momento in cui il figlio, o viceversa, matura e comprende la bontà delle scelte dei genitori, e questa volta lo fa con la sua testa, comincia quella che nella Kabbalah è chiamata la fase frontale Panim Befanim, in cui egli torna a comportarsi secondo coscienza, ma questa volta per scelta personale e non più per imposizione dall'alto o dall'esterno. attenzione! Se noi vogliamo affrontare questo discorso dal punto di vista ebraico diremo che il processo evolutivo di cui abbiamo parlato è riscontrabile anche sul piano collettivo e non solo su quello individuale. Anche le relazioni fra schiavo e padrone, per esempio, dice il tale Lechaim, possono essere considerate a horbe a hor, retro su retro, fase di una costrizione, nel momento in cui il padrone impartisce allo schiavo degli ordini, aspettandosi che il sottoposto obbedisca senza necessariamente comprendere la ragione. portate bene che fra un mese noi festeggeremo la festa di Pesach e anche Pesach è soggetto a questo discorso, perché? Perché Pesach rappresenta a sua volta una Nesira, una resezione, una resezione della fase precedente di schiavitù che è a horbe a hor, abbiamo appena studiato. Da qui importanti considerazioni circa la storia ebraica. Anche i rapporti fra Dio e la comunità di Israele seguono lo stesso destino. Il mondo inferiore, non dimentichiamocelo, è parallelo al mondo superiore e lo studio del mondo inferiore non è che la via per comprendere il mondo superiore. Che cosa ci vuol dire qui il tale Lechaim? Molto semplice. Studiando le fasi evolutive di un individuo o di un popolo che rispondono a questo schema di cui abbiamo parlato, comprenderemo che anche il mondo superiore, il mondo di Kadosh Baruch Hu, il mondo della mistica, quello che noi non vediamo completamente perché non siamo in grado di farlo, si comporta esattamente nello stesso modo. Le relazioni sono regolate sempre dallo stesso schema. A cosa mi riferisco? All'esperienza ebraica dell'esilio, cui seguirà sperabilmente quella della redenzione, come nel caso dell'uscita dell'Egitto, della quale abbiamo appena parlato. L'esilio non è che una fase è a corve a cor, retro su retro, priva di forza di volontà. Il popolo ebraico in esilio, chi si trova lontano dalla propria casa, è privo di forza di volontà, viene fiaccato. Mentre nella geulà, nella redenzione, si manifesta, viceversa, il panim befanim, la fase frontale. Si può fare un discorso analogo anche per il servizio divino, la avodata shem, e per lo studio della Torah, che sono i due cardini della vita ebraica. Nello studio della Torah, a corve a cor, retro su retro, è la fase in cui la persona si applica senza tuttavia comprendere la logica degli argomenti. Se io comincio a studiare un argomento completamente nuovo, sotto la guida di un maestro, che cosa gli domando anzitutto? Che mi faccia vedere per sommi capi come funzionano le cose, senza che io pretenda alla prima lezione di capire il meccanismo. Mi accontento di vedere quali sono le relazioni superficiali di causa ed effetto. Poi mi domanderò quello che va sotto la domanda di come. Una volta che avrò approfondito il come, a questo punto potrò passare a domandarmi anche il perché. Nel momento in cui comincia a porre domande, l'allievo si verifica la sua nesira. È il momento della resezione in cui l'allievo comincia a rendersi intellettualmente indipendente dal maestro. E come conseguenza la piena comprensione dei testi e del loro significato corrisponde alla fase matura. Quello che abbiamo chiamato più volte panim, beh, fanim. Se questo vale per lo studio, vale anche per il servizio divino. Anche qui sono riscontrabili due modalità. Il servizio reso come servi e il servizio reso in qualità di figli. Sono le espressioni tipiche che ci accompagnano in una delle tefillot più alte e più belle del nostro calendario, il Musaf di Rosh Hashanah. Esaudiscici, perdonaci che tu lo faccia nei nostri confronti in qualità di tuoi servi o in qualità di tuoi figli. Qual è la differenza fra le due definizioni? Secondo quanto stiamo dicendo, i servi si fermano all'accettazione di prescrizioni date così come sono. L'abbiamo già detto. Ed è il lato rivelato della Torah, il nigleh, la halakha, il come. Chi si limita a studiare la halakha vuole semplicemente conoscere come deve compiere il servizio divino, come deve svolgere il suo dovere, senza porsi il problema del perché. Lo studio qui si limita per lo più ai criteri applicativi esteriori delle norme ed è impostato su una relazione di timore della divinità. Io faccio certe cose e non ne faccio altre non perché abbia capito il meccanismo rinerente, ma semplicemente perché ho timore della divinità. Cosa vuol dire timore? Timore può significare timore di una pulizione, ma anche in forma positiva, speranza in una ricompensa, che non cambia poi di molto il quadro. Comunque lo si fa in un certo senso per secondi figli. Uno stadio assai più approfondito è quello dei figli. Come si dice figli in ebraico? Banim, banim è connesso anch'esso con il verbo bone, costruire. I figli sono il nostro edificio, ma anche con binà, intelligenza. L'intelligenza, quella parte dell'intelligenza di cui abbiamo già accennato, che non si limita a studiare quello che c'è scritto nei libri o quello che ti raccontano i maestri, ma è anche capacità di elaborazione. Dedurre un argomento dall'altro. Quella parte dell'intelligenza in cui le donne sono più forti degli uomini. I figli servono Dio non più per timore, ma per amore, e vanno alla ricerca dei significati più reconditi del testo, del perché. Non più semplicemente si limitano al niglé, al rivelato, ma vanno alla ricerca del nistar, di ciò che è nascosto, i significati eventualmente della mistica. E qui arriviamo a parlare di Purim, finalmente. Rabbi Yitzhak Luya afferma che l'esilio, abbiamo detto, è una condizione di costruzione. L'abbiamo detto. In che senso? Siamo un filo più precisi. Abbiamo il maschio, che potrebbe essere il popolo, e abbiamo la sua componente femminile, che è la Shekinah, la presenza di Dio fra di noi, che è in realtà la nostra essenza, secondo la Kabbalah. in esilio si è detto che la Shekinah, che è l'essenza di Israele, privata della sua forza di volontà, è ridotta ai minimi termini. Quella terminologia che nel linguaggio della Kabbalah si chiama katnut ammokhin, piccolezza di cervelli. Quanto le basta per sopravvivere? Non molto più di così. La Pnimiut, l'interiorità della Torah, è rimasta, durante l'esilio, la fase dell'esilio, privilegio di pochi. Mentre l'unico aspetto che rimane vitale è quello pratico, la Halakha. C'è una Gemara in Berakhot, in cui ci viene detto, a nome di Rabbihi Abarami, a nome di Ulla, dal giorno in cui il Betta Mikdash è stato distrutto e noi siamo stati ridotti in esilio, non resta al Santo Benedetto nel suo mondo altro che quattro cubiti di Halakha soltanto. quattro cubiti sono circa due metri. E secondo la Halakha stessa è lo spazio giuridico che una persona occupa per il fatto stesso che esiste. Se io lancio un documento di... se un marito lancia un documento di divorzio a sua moglie e la moglie non lo prende in mano, ma questo documento va a cadere ai suoi piedi entro la distanza di due metri intorno ai suoi piedi è considerato come acquisito, come arrivato a destinazione regolarmente. Perché? Perché i due metri di raggio intorno alla persona fanno parte della persona stessa, affermano la sua personalità. E durante l'esilio a Dio non rimane altro che quattro amot, quattro cubiti due metri, come si è detto di che cosa? Di Halakha. Il lato rivelato della Torah è il come. La svolta è rappresentata dalla fase della Nesirah che è resa possibile proprio dalla dormita del maschio. Chi è il maschio? Il popolo stesso. O forse anche Dio stesso. Come si chiama la protagonista della Meghillah? Ester. Ester in realtà non è il suo primo nome. Il suo primo nome era Hadassah, un nome ebraico, la Mirta, letteralmente. Esiste questo nome anche in italiano, Mirta. Conosco delle Mirte. Ester viene interpretato di solito come un equivalente persiano di Astrum, Stella, In realtà i nostri maestri, c'è una Gemara in Chagigah, che leggono a questo proposito un versetto della Parashah di Vayelech, alla fine del libro di Devarim, dove Dio dice E io nascondere nasconderò il mio volto in quel giorno. Lo ester panim, come si chiama, il nascondimento del volto divino, l'eclissi di Dio, come la chiama Martin Buber, consisterà in un ester betoha ester, in un nascondimento nel nascondimento. Da un lato non solo Dio sparirà, per così dire, temporaneamente dall'orizzonte, e questo noi lo vediamo dal fatto che il suo nome non figura mai nella Meghillah, ma il popolo giungerà a dimenticarsi che Dio si è ecclissato e si perderà la coscienza stessa della sua esistenza. In quel momento il popolo si comporterà come se Dio non esistesse, negando la sua esistenza, dicendo Dio non esiste. Ma attenzione, proprio questo è il momento che precede l'alba, in cui il buio, dicono i nostri maestri, cadruta de zaffra in aramaico il buio del mattino, il momento in cui precede l'alba, l'alba è il momento in cui il buio si fa paradossalmente più intenso. E questa è la prima fase del racconto della Meghillah, la fase tragica in cui il popolo ebraico prova la minaccia della distruzione. E il riferimento qui è al Salmo 22. È un famoso versetto questo, ma nella tradizione ebraica questo Salmo sarebbe stata la preghiera pronunciata da Esther nel momento in cui decise di presentarsi alla vea Hasverosh senza essersi annunciata. Il momento cruciale della Meghillah in cui alla fine Baruch Hashem a Hasverosh le tende il suo scettro e la ammette alla propria presenza. E la Ayeletashachar, cui il Salmo è dedicato, tra l'altro è il nome di un kibbutz in Galilea oggi, Ayeletashachar, forse qualcuno lo conosce, letteralmente significa Cerbiatta dell'alba, è un epiteto di Venere, la stella del mattino. La stella che illumina il mattino anche dopo che il sole è sorto. Qualche volta la si vede ancora brillare anche un'ora dopo il sorgere del sole. Chi è la Cerbiatta dell'alba? Esther stessa, che accompagna il popolo ebraico dalla notte della distruzione alla luce della redenzione. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonata? D'altro lato, non è solo Dio ad aver abbandonato il popolo ebraico apparentemente, è il comportamento degli ebrei a confermare questo allontanamento. Lo sappiamo dal Midrash sulla Meghillah. Di solito si legge la Meghillah come testo senza commenti, perché si ritiene che non abbia bisogno di commenti. In realtà la bellezza della Meghillah consiste nel leggerla attraverso i suoi Midrashim, che completano il racconto in maniera eccezionale. Qual è la prima scena della Meghillah? Il banchetto di Ahashverosh. A questo banchetto sono stati invitati tutti i ebrei compresi, i quali siedono al banchetto del re, il quale, vestito con gli abiti del Kohen Gadol, non dimentichiamoci che il Betta Migdash era stato distrutto dai babilonesi in quel momento e non era stato ancora ricostruito, e il re Ahashverosh mostra loro impunemente gli oggetti trafugati dal Betta Migdash distrutto. Recipienti fra recipienti diversi. Shonim vuol dire Meshunim, recipienti particolari, e quali possono essere per noi dei recipienti particolari quelli appartenuti al Betta Migdash. E gli ebrei mangiano, crapulano, bevono, di fronte a questo disgraziato che li insulta patentemente, e loro non se ne accorgono di essere insultati. Insomma, il popolo ormai dispera dell'aiuto divino. Dio non esiste più. E di questo chi si approfitta, si approfitta a Malek. Il primo ministro Aman, che tutti noi conosciamo in Mahshemot, va dal re e gli dice Capitolo 3 della Meghillah, oggetto di Midrashim stupendi sull'origine dell'antisemitismo, Aman disse al re Ahashverosh Yeshno, c'è un popolo sparpagliato e disunito fra i popoli in tutte le province del tuo regno. Vedate emshanot mikolam, le loro leggi religiose sono diverse da ogni popolo. Vedate ammelechenamo osim, non mettono in pratica le leggi del re, perché quando il re li incarica di venire all'università a fare un esame di sabato, che cosa dicono? No, no, oggi per noi è shabbat, c'è la legge dell'intesa. V'el ammelechen sovele amikam, dice Aman, al re non conviene lasciarli perché sono un costante disturbo per il buon andamento dello Stato. È usato qui questa strana forma Yeshno, che troviamo nel Tanakh solo qui, e il Chachamim nel Talmud la interpretano ricorrendo a un trucchetto, cambiandone le vocali. E invece di leggere Yeshno, c'è, leggono come se fosse Yashenu, che significa dormono. Gli ebrei Yeshno, yashenumina mitzvot. Quello che Aman voleva dire, convogliare il messaggio che gli ebrei dormono rispetto ai precetti. In realtà, dobbiamo dire che tutto era stato architettato da Kadosh Baruch Hu, affinché tornassero panim e fanim. affinché tornassero a una piena relazione frontale. Il Talmud, nel Trattato Meghillah, racconta che i discepoli domandarono a Ravishimo On Bar Yochai, il grande maestro della Kabbalah, perché gli ebrei di quella generazione avrebbero meritato la distruzione. C'è tutta una discussione nel Talmud, viene fuori appunto che gli ebrei avevano goduto del banchetto offerto da quel malvagio del re e non avrebbero dovuto farlo neanche se fosse stato kasher. C'è una discussione se il banchetto era kasher o non era kasher, c'è chi dice che non lo era, c'è chi dice che Mordechai per salvare la gente almeno dal cibo non kasher aveva fatto in maniera che ci fosse un ashgaha. Ma il principio negativo evidentemente non veniva salvato da questo. Ravishimo On Bar Yochai rispose ai suoi discepoli in definitiva e disse loro che gli ebrei non avevano fatto il male altro che in apparenza. Dentro di loro covava un qualche cosa di diverso che a un certo punto ha trovato espressione. E così anche il Santo Benedetto li punì solo in apparenza, cioè minacciò la peggiore delle punizioni ma poi non le diede effetto. E qui, per usare il termine apparenza, il Talmud dice lefanim. Lefanim significa di fronte. Vuol dire che tutto questo, il racconto della Meghillah, era stato architettato affinché gli ebrei tornassero a una relazione frontale con Kadosh Baruch. Ma chi è il protagonista negativo di tutto questo? Il signor Amalek. Aman era discendente di Amalek, il male assoluto. Amalek appare tutte le volte che è in corso un'anesirah, che è in corso un'operazione di resezione, in cui si passa dalla Chorbe a Chor al Panim ben Fanim. Scrive in proposito Rabbi Yitzhak Luria, il grande cabalista. Aman era un grande astrologo e sapeva quando si sarebbe ridotta la provvidenza divina nei confronti di Israele che dorme e pensò che era qui è giunto il momento di annientarli. Ma Amalek fa male i conti. Deve fare i conti con la capacità di, come si dice oggi, di resilienza spirituale del popolo ebraico, la nostra Kedushah nascosta. Se anche il popolo aveva abbandonato la Torah e appariva ormai non dissimile da tutte le altre nazioni, qualcosa tuttavia ribolliva in esso. Se il maschio dorme, la femmina no. E chi è la femmina? La Shekhina, la presenza divina tra noi. L'illuminazione, la He'a Ra, di cui si parla nelle fonti cabalistiche, fu rappresentata da Mordechai, che non si prostra e non si inchina. A che cosa non si prostra? Non solo all'immagine dell'idolo che Amman si era forgiato sulla propria T-shirt, come dice il Midrash, non si prostra e non si inchina alla rassegnazione. Mordechai sapeva che non era quello il momento per rivelazioni sopranaturali, ma si doveva ripartire da una riaffermazione della Kedushah di Israele dal basso questa volta, non per iniziativa della divinità, ma per iniziativa del popolo stesso. E cosa dice? Convince Esther a darsi da fare, e a radunare tutti gli ebraici. Esther dice a Mordechai, l'erh kenos et kolayudi. Vai e raduna tutti i membri del popolo ebraico. A questo punto dobbiamo tornare con un flashback all'indietro. A quale momento? Al momento in cui la Torah è stata data sul monte Sinai. vi ricordate come andarono le cose? Il popolo fu interpellato da Moshe in via preliminare. E cosa rispose? No, a se venish ma. Certamente. Faremo e ascolteremo. Sappiamo tutti la spiegazione di questa strana evoluzione dei verbi. Faremo prima ancora di aver ascoltato, di aver capito. E subito dopo è raccontato nella Torah che il popolo è scritto si appostavano sotto il monte allo scopo di ricevere la Torah. E qui, secondo il Midrash, è una Gemara in Shabbat molto famosa, succede qualche cosa di particolare, inaspettato. Amar Rabbi Avdimi Barkhamah Barkhasah ci insegna che il Santo Benedetto a quel punto rovesciò su di loro il monte come una tinozza. Lì è scritto si appostavano sotto il monte, letteralmente. Si trovavano il monte, sotto il monte non significa ai piedi del monte, ma significa letteralmente che si trovavano il monte sopra di sé allo zenith. E Dio disse loro se accettate la Torah bene, altrimenti questa sarà la vostra sepoltura. Domandano tutti i commentatori ma se erano stati appena interpellati e avevano risposto una sevenishma che ragione c'era di impoglierla con la forza. Lo scopriremo fra un attimo. La Gemara conclude dicendo che nonostante questo atto di forza che costrinse gli ebrei in quel momento ad accettare la Torah tornarono ad accettarla di buon grado questa volta in piena coscienza quando? Ai tempi di Achashverosh. Perché uno degli ultimi versetti della Meghillah dice che gli ebrei chiyemu vechi blu confermarono e accettarono. spiega al Midrash chiyemu mash e chiblu confermarono ciò che avevano già accettato. In che senso? Se al monte Sinai l'accettazione della Torah era stata paragonabile al comportamento di un bimbo piccolo la katnuta mochin di cui abbiamo parlato la piccolezza dei cervelli e il bimbo piccolo si adegua supinamente alle scelte dei genitori ma manca di volontà personale e dice sì faremo e ascolteremo ma senza profonda convinzione soltanto per emulazione dei genitori per emulazione di kadosh baruchu al punto di dover essere costretto è solo dopo una dura esperienza di nesira di resezione rispetto al genitore o alla divinità in questo caso che il maschio si risveglia dal suo torpore mentre la Shekinah la presenza divina accetta la Torah questa volta in piena coscienza e maturità senza i lampi e i tuoni che caratterizzarono la rivelazione sul monte Sinai e sappiamo che storicamente il periodo della Megillah Tester fu l'inizio a tutti gli effetti della Torah orale cos'è la Torah orale? Il lavoro che noi uomini dal basso portiamo avanti nell'interpretazione della Torah scritta che ci è stata data da Kadosh Baruch Hu attraverso la Torah orale noi mettiamo tutta la nostra personalità la Torah orale è la relazione Panim Befanim finalmente conquistata la guerra contro Amalek attenzione Amalek notano i calcolatori dei valori numerici delle parole delle Gematriot la guerra contro Amalek la parola Amalek ha lo stesso valore numerico di Safek che significa dubbio Amalek impersona il dubbio il dubbio sistematico di Cartesio non quello metodico quello sistematico quello definitivo ebbene la guerra contro Amalek è in realtà combattuta contro la rassegnazione di chi pensa di non aver più parte nel Dio di Israele dopo aver peccato signori questa è la situazione di molti ebrei non solo ai tempi di Bordecai e di Achashverosh ma anche ai tempi nostri e osso dire la situazione generale in cui è maturata la Shoah la Shoah ha rappresentato una Nesirah in realtà non si dà vera importanza alle parole della Torah finché non si cade in errore non dobbiamo spaventarci di fronte al fatto che molti dei nostri fratelli si sono allontanati quello è il momento in cui il popolo ebraico fa Teshuah il momento diremo noi oggi in cui torna in Ereti Israele e si avvia a instaurare una nuova fase della vita ebraica in cui la Torah è accettata Panim Befanim siamo al centro di un processo molto chiaro da questo punto di vista questa è la vera Teshuah qualcuno mi faceva notare che anche la storia del profeta Yonah è impostata secondo lo stesso schema nella prima parte Yonah si rifiuta di obbedire all'ordine divino di salvare i ninibiti è la fase Ahobe Aho poi c'è stata una Nesira una resezione e alla fine il profeta Yonah va di buon grado Panim Befanim a esercitare la sua funzione dicono i nostri maestri a partire dal Maharal di Praga che c'è che cosa quando si legge la Haftarah di Yonah si legge Amincha di Yom Kippur Kippurim e Kepurim esiste una relazione fra Purim da un lato e Yom Kippur dall'altro la differenza fra Purim e Yom Kippur è che a Yom Kippur eleviamo la Chizoniut a livello della Penimiut a Yom Kippur eleviamo l'esteriorità a livello dell'interiorità praticando il digiuno e la Tefillah che esaltano il nostro rapporto con Dio a Purim all'inverso caliamo la Penimiut nella Chizoniut mangiando bevendo esaltando il nostro rapporto con il prossimo caliamo l'interiorità nella esteriorità cioè il percorso inverso rispetto a quello di Kippur Kippur è incentrato intorno al nostro rapporto con Dio Purim viceversa è incentrato intorno al nostro rapporto con il prossimo che cerchiamo di riconquistare il popolo rinforza le sue file in che modo? Mishloach Manot i doni dei cibi Matanot le'evionim la tzedakah i doni ai poveri la condivisione del banchetto la lettura stessa della Megillah che possibilmente deve essere fatta in pubblico si può fare anche individualmente per carità ma il modo migliore è farla in pubblico Berova Amadrat Melech con una grande moltitudine di popolo è ancora maggiore la gloria del re Purim è incentrata effettivamente è la festa incentrata sulla collettività ebraica il popolo ebraico ritrova in questo modo la sua relazione anche con Dio e con se stesso Fani Fani Visavi grazie a tutti per avermi seguito e auguro a questo punto a tutti quanti Shabbat Shalom per questo Shabbat ricordo che questo Shabbat leggeremo nel secondo sefer una parasha molto particolare in cui ci viene comandato di distruggere il ricordo di Amalek questa mitzvah è stata stabilita dai nostri maestri per lo Shabbat che precede Purim e quindi è particolarmente raccomandata la presenza al Bet HaKnesset sia degli uomini che delle donne in questa in questa in questa occasione perché abbiamo l'occasione di osservare proprio una mitzvah particolare che è destinata allo Shabbat che precede Purim al di là della mitzvah generale che abbiamo tutti i sabati di leggere la parasha e quindi invito senz'altro tutti quanti a intervenire alla tefillah per tempo per sentire la lettura della parasha sabato mattina al più tardi per le 10 10 e un quarto in maniera tale da essere presenti se non altro alla lettura di Zahor grazie a tutti e in previsione che sia veramente un Purim sereno e lieto per tutti quanti grazie auguro a tutti grazie a tutti